Troppo facile, quella conversazione che ha fatto con Salvatore Casamonica al ristorante di Grottaferrata è fondamentale. Ma noi la vedremo dopo, però gli sto chiedendo se è il tentativo di scalare la criminalità o no, oppure c'è altro? Era molto ambizioso e forse si allargava troppo e non conosciamo la situazione dei debiti, però temo che ad Ostia quel mandato sarebbe dato da solo e credo che il problema sia questo, nessuno gli ha dato un'investitura. La teoria di un uomo che conosce bene la malavita romana, cioè Piscitani voleva farsi re, chi conosce la malavita romana sa che chiunque vuole farsi re in una città che è un hub, un laboratorio criminale, finisce male, finisce sotto terra. Ma a Ostia la pace tra le varie consorterie criminali la stabilivano i senese, i senese fino al 2008. Francesco Dagati che era un padrino di Palermo e che definiva il quadrante di Ostia, però a lui si era dato questo mandato da solo. Però tu dici, scusa, tu dici quindi che forse... Io dico che Ostia si è allargato. Sì, dici, forse non è... chissà che se va... quel trono non c'è Roma, lo devi dividere con tutti. Ci sono dei garanti della pace mafiosa. Magari lui se pensa così forte ci penso io a risolverlo, come dice Francesca, è andato più in là. Quello che sappiamo è che fino adesso è uno dei pochi misteri non risolti in quest'ultimo periodo su Roma. E chi è ammazzato? Che cosa è successo? Grazie. Ciao. Grazie a tutti.